Svezia e Italia si contendono palla all'Italia che controlla con disinvoltura. Tiro! Forza! Razzurla in aria controlla il volo dell'Atalia. Ma vai! Dai, che tu ha! Ora! Dai, dai, dai! No! Pallo! Sti svedesi! E' un'occasione mancata per l'Italia. Una cucina Ikea resiste a tutto. E' un'occasione mancata per l'Italia.